Musica Ciao a tutti ragazzi, ci sono 66 e benvenuti su un nuovo episodio della Pixelmone Fa un caldo bestiale ragazzi, lo so Siamo vicino all'episodio 100 comunque, siamo più o meno al 94 mi sembra Quindi, beh, siamo messi molto bene Allora ragazzi, oggi andremo ad expare, principalmente sarà expato Hitmonchan e Servain Embuar probabilmente tipo verrà buttato qui per il momento Farò tornare, cioè farò preso, cioè rimane Kabutops con noi Lui va via, probabilmente tornerà torterra finalmente E anche il nostro bel Mew, perfetto Il nostro team è tornato, tranne il fatto che Kabuto deve andare, no Kabuto rimane Servain che va via Comunque, tantalmente andremo ad expare oggi Nel frattempo parleremo di una cosa abbastanza molto figa, importante a mio parere Che sarà, diciamo, uno dei primi argomenti di cui parlerò Che riguardano Youtube Non è proprio uno dei primi, nel senso che abbiamo parlato già di tanti altri argomenti riguardanti Youtube Nella serie di Epixemon Però poi ne parleremo molto più approfonditamente Nel, diciamo, un nuovo, chiamiamolo show, ma più che altro Un nuovo, nuova serie che inizierà dal 20 luglio Sì, 20 luglio, cioè, inizia prima, inizia più tardi Da 20 agosto Perché tranquillamente è sicuro che mi arriva la mia webcam Entro il 18, quindi dal 20 farò dei vlog Che faranno parte della serie che probabilmente Non so se è iniziato veramente agosto, diciamo Poi ho pensato più a settembre, sì, i primi settembre Però vedremo un po' Sarà la serie su tutto, su tutto E su, diciamo, più un discorso generale su qualsiasi argomento sia Perlomeno non giocabile Diciamo, si possa cacchierare su, insomma Saranno di tutti i tipi, saranno tantissima roba E spero che vi piaccia Comunque, oltre a questo Andiamo a trovare un paio di persone Che mi permetteranno di espare nel mio bellissimo Atmonchan, che probabilmente non ce la farà da solo Quindi magari, tipo, facciamo questo modo Andiamo sempre nel deserto Occhichiamo un paio di questi cosi giganteschi E nel frattempo vi dico un attimo Che cosa, eh Qual è la domanda del giorno? La domanda del giorno che riguarda YouTube è Secondo voi Non so se ho già fatto questa domanda, spero di no Non ho delle domande iscritte, quindi non so Se ve le ho fatte già o no Spero che di non averla fatta Forse vi ho fatto una domanda nel senso Uno YouTuber dovrebbe parlare più spesso con i suoi iscritti Questa mi sa di sì la verrà già fatta Però la domanda essenziale di oggi è Rispondere ai commenti E rispondere in generale A una domanda che ti ha fatto un iscritto YouTube Live Su Su Facebook Su Ho già fatto Facebook In PM Sui commenti di YouTube La parte più importante È importante Nel senso che Vedo tante volte Ehm Delli YouTuber Che fanno dei video Sì Ok Dopo che hanno registrato quel video Il video è bello Pronto E fatto Nel senso che Sostanzialmente non ci tornano più in quel video Cioè Non Non tornano più in quel video E anzi Ehm Non vedo Quasi mai Ma dico quasi mai Tranne il video in cui tipo Insutta qualcuno Perché in quel caso Ok Funziona Dei commenti Sotto in Sotto ad altri commenti Che hanno fatto Degli iscritti Questa cosa è un po' Mi dispiace Perché sostanzialmente Ehm Come mi hanno detto ieri Ehm Metal che cavolo Ehm Questo è buono Perché in teoria Qua già No bugia Mega Drain È una mossa Hm Vedete questa è un'ottima cosa Io li fa così Ok Dicevo Ehm È una cosa molto importante Perché Senzialmente Mi hanno parlato In Ehm In PM Su Facebook Mi hanno detto Molise Perché tu rispetto a tanti altri Cerchi di rispondere sempre In commenti Comunque ci sei sempre Quando una persona Ha bisogno Faccio un esempio Molto spesso è capitato questa cosa E So che Non si deve fare Non perché È una brutta cosa Ma che sostanzialmente Poi la gente Ci prende l'abitudine Rispondere dei commenti In cui ti chiedono Delle cose Del genere Ulisse Questo PC va bene Ulisse Secondo te Non secondo te Non chiedo Secondo te Sanno che tu sei tutto A prescindere Ulisse Mi fai una configurazione del PC Ulisse Mi Ehm Mi dici Minecraft Come deve Come devo installare Minecraft Mi fai un modpack L'ultima volta Mi hanno fatto Mi spavano un modpack Ci sei rimasto abbastanza male Con la domanda E la domanda Sanzialmente Arriva Dal fatto che Molto spesso Cerco di rispondere Proprio a tutti i commenti Ma anche a tutti i PM A prescindere che siano Relativi All'episodio Che ho caricato In quel giorno Relativi Al canale O relativi Proprio a tutto Tutto ciò che Può interessare Il mio canale Ovvero Gaming In generale Per esempio Mi chiedono Ulisse Che ne so Una domanda a caso Che non c'è una mazza Nel senso Ulisse Secondo te Che microfono Dovrei prendere Cosa che Ok io posso Aiutarvi Per quanto riguarda Ciò che so Però non è che so Un tizio che sa Tutti cose In microfono Nel senso Tante domande strane E In genere Vedo youtuber Che per esempio Dicono No noi non rispondiamo A questi commenti Perché sostanzialmente Sono Inutili Prima cosa Secondo me Sbagliata Nel senso che Si Sono un po Superficiali E Abbastanza Stupidi Perché sostanzialmente Basta andare su google E google Ha le risposte di sto mondo Tutte le risposte di sto mondo Google Google Qualsiasi motore di ricerca Cito google Perché youtube E fa parte di google E Troverete tutte le risposte Di questo mondo Quindi potete tranquillamente Senza scrivere a me Che Si Potrò saperne Un po Ma non saprò mai Quanto google Perché Come google non lo sa Stanzialmente google Raccoglie Che poi Voi dovete capire Se la gente Sta dicendo la verità Oppure no Su quel prodotto Sta a voi farlo Insomma Io vi posso tanto aiutare Per alcune cose E Stavo dicendo Alcuni youtuber Pensano che per esempio Quei commenti Sono inutili E Sono Stupidi e inutili Ok Stupidi su questo punto di vista Hanno ragione Perché Ci sono Come ho già detto Tanti modi di poter trovare Delle informazioni In giro Perché Siamo nell'era del web E Più o meno Puoi trovare Tutto ciò che ti serve Senza tanta difficoltà Se sai Se sai cercare Cosa che non tutti Sanno fare però E Stanzialmente Non serve chiedere a qualcun altro Basta vai su google Googla qualcosa E vedrai che qualcosa Uscirà fuori Di qualsiasi tipo E quindi Non è così tanto complicato E Allora dicevo Alcuni youtuber Penso che questa cosa Sia stupida E inutile E quindi dicono no Non rispondo a questi commenti Io a differenza loro Rispondo Perché Perché capisco che molte volte Capita che Una persona si fida di voi Nel senso che Può anche aver visto in giro Che secondo Che secondo tanti altri Questa cosa va bene Figa E potentissima Però non sa bene Se deve fidarsi oppure no Ed essendo qualcuno Che vi segue Per molto tempo Durante il giorno Ha Creato con voi Un certo legame Di Diciamo Come 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 chiamarlo Legame di Cioè Un legame Non è proprio Affettivo Ma più un legame Di Conoscenza Slash Tutor Ovvero Tu Vuoi aiutarlo Perché Stanzialmente Conosci Conosci tante cose Hai Comunque Un paio di Molte più persone Rispetto a lui Che ti seguono E Per seguo Intendo che Guardano i tuoi video Non parlo mai di fan Perché non Non mi piace tanto La parola fan E Sostanzialmente Cosa Cosa pensano Si fidano del vostro pensiero A prescindere se voi non sapete una mazza di quella cosa Cosa molto probabile Perché Non siamo tutti tecnici informatici O Tecnici dell'audio Luci Flash Cosa del genere Diciamo che Cercano in voi Una rassicurazione Quindi Io lo faccio Perché Sostanzialmente So Che Quella persona Non è che lo fa In cattiva fede Nel senso che Vuole farmi perdere il tempo Perché Sostanzialmente Non Si fida di Molte risposte Che gli vengono date su internet O comunque In generale Un po' ovunque E quindi Sostanzialmente Chiede a me Che Secondo lui Non so di più Cosa abbastanza strana È impossibile Però Capita E quindi Io cerco di rispondere Rispetto a tanti altri youtube Perché Secondo me È giusto Anche Poter rispondere A questi commenti In quanto Prima cosa Non rispondere Significa Da un certo punto di vista Diciamo Non Far pensare A Cioè È come se Fosse No a me non interessa di te Sì Mi segui Mi segui Ok Però Non mi può interessare Tanto di te Questa cosa Può essere Vera O non vera Però Una persona che mi segue Può Pensare questa cosa Perché capita E Uno mi risponde Dopo un tanto di tempo Dopo gli ho avviato 18 messaggi Ho visto che risposto D'altra gente Però la risposta a me Dico Qualcosa Di strano è successo Penso Almeno E quindi mi risponde In questo modo Mentre Per esempio Oddio Con i shiders 45 Mentre Io cerco di rispondere A tutti Cioè Dicevo No scusate Sbagliato Dicevo Cerco di rispondere A tutti Perché Primo punto Per quello Secondo punto Perché Alcune cose Potrei saperle Per esperienza personale O comunque Aver letto qualcosa E poter aiutare In qualche modo Qualcuno che Viene da me A chiedere aiuto Perché chiedere aiuto Non è mai una brutta cosa Anzi Ora So che dopo questo video Arriveranno 18 milioni di cose Tipo Su argomenti che non conosco Però dettagli Comunque E semplicemente Mi chiedono tante volte Di cose che io Conosco In minima parte Però C'è che aiutarli Per quello che conosco Quando per esempio C'è una domanda In cui mi chiedono Che ne sono supporto Su qualcosa Che io socialmente Non conosco Realmente Li dico tranquillamente Guarda che Io Non conosco una mazza Quindi Chiedere a me È inutile Quindi Secondo me Rispondere E Sempre 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 Un'ottima cosa Anche se sono commenti stupidi Se sono commenti Che Non riguardano direttamente Il vostro episodio Il vostro Serie Il vostro canale Ma Diciamo Delle domande Tecniche Che più o meno Possono Essere conosciute Da voi Perché non risponete mai Se non avete davvero La certezza Comunque Risponete in modo Come ho detto io Ovvero Dicendoli Guarda io non conosco Tantissimo questa cosa Posso aiutarti Fino a un certo punto Quindi quella Secondo me È un'ottima cosa Però Come ho detto È Un po' complicato Perché Per vari aspetti Mi sono anche Io ho pentito Per esempio Di aver risposto A certe domande Perché Dopo la domanda Ti hanno fatto Un papiro enorme Di tutte le cose Che ti servivano Come se tu fossi Un call center Stanzialmente Quindi ti chiedono Assistenza remota Cosa che Non sono Però Come ci ho detto È Secondo me Uno dei Non degli obblighi Uno dei Punti importanti Anche di un youtuber Quando Cerchi Quando hai Un paio di persone Che guardano i tuoi video E si affezionano a te Cercano in qualche modo Anche di Chiederti qualcosa Che non fa parte Completamente Di qualcosa Di cui tu tratti Ma Conoscendoti E sapendo che Più o meno Potresti saperne qualcosa Te lo chiedono In buona fede E quindi Questo è proprio il punto Che mi spinge A comunque risponderli Anche se Sostanzialmente Non appartengono A ciò che faccio io Quindi Sì Non li rispondo In modo In modo errato Cerco sempre di Di vedere Che qualcosa Insomma Che Interessi loro Ma Cerco comunque Di rispondere a tutto E La domanda Del giorno Significa proprio a questo Ho fatto un monologo gigantesco Non so da quanti minuti Sto facendo un monologo 12 minuti La domanda del giorno È proprio questa Secondo voi È importantissimo È poco importante O comunque Sta nel mezzo Nel senso che Puoi rispondere Soprattutto a commenti di youtube Lascia i pm Non ti interessa Tantissimo O comunque è importante Che una persona Riesca A Comunicare con voi Anche se Diciamo Non Diciamo Non conosce quella cosa Potrebbe non conoscere quella cosa Bosa Vi sono andata una cosa Potete Obiettarmi qualcosa Nel Nei commenti Voi direte Ulisse Sì è vero È importante leggere i commenti Ma tu Hai più o meno 40k di iscritti E Molti altri invece Ne hanno molti di più Lo so Questa cosa È Normalissima Il problema È che Conosco Cioè nel senso Non conosco Nel senso che Secondo me Anche Dopo che si hanno Un po' di iscritti Si può cercare Di rispondere Più Grande numero Di commenti O comunque Più grande numero Di Di cose Come si chiama Di Si è bloccato ragazzi Ha crashato No È il più grande numero Di Ho finito Ok Il più grande numero Di commenti Slash messaggi Affinché Si possa Più o meno Riuscire a Oddio Ho finito tutto Ho finito Posso più o meno Riuscire a contentare L'iscritto Non a contentare Con un cosiddetto Nel senso Sì te lo dico Tanto non sono una mazza Però vabbè Tutti fitti di me Ok No in quel modo È bruttissimo Nel senso Poter aiutare Nei limiti possibili Molto Velocemente Almeno E anche se hai Un po' più di iscritti E hai molti più Messaggi Cerca di dividerli In giornate Ok Risponderai a un tizio Dopo due giorni Però li risponderai E io Se mai capitasse Di arrivare a Comunque un buon traguardo Lo spero davvero Perché Comunque Fu sempre Uno dei miei obiettivi Comunque migliorarmi Se dovessi arrivare Mai a questi A numeri un po' più grandi Cercherò di rispondere Sempre a tutti Perché Esattamente Come ho già detto Nermi indole Cercare di aiutarli Nel miglior modo possibile Perché sono delle persone Che si fidano di me E quindi Non voglio tradire Le loro fiducia In nessun modo Ok Vabbè ci sono poi Quelli che Voi direte Quelli che Però ci sono alcuni Che tipo Dicono cose stranissime Nel senso che Ne ho incontrate parecchi Ed è stata una brutta cosa In effetti Oddio perché Confusione C'ha merda Dicevo Potrebbe Capitare persone Che si comportano In modo strano In quel caso È un po' più complicata La questione Però Si può Pur sempre Riuscire in qualche modo A Diciamo Fargli capire che O Stanno esagerando Con i messaggi O che comunque Stanno dicendo Le strozzate In quel caso Si può fare Comunque Diciamo che Come già detto I messaggi sono importanti I PM è un po' più importanti Perché Sono Diciamo La parte in cui Nessuno vi controlla Perché non sapete Ce ne sapete tanto Tu la persona Che ha scritto il messaggio E quindi Potete Diciamo Comunicare con l'iscritto Privatamente Anche questa è una Dei parti In cui l'iscritto Si sente tipo Preso Nel senso Si sente Finalmente Sicuro Di che qualcuno Le ha risposte In qualche modo Nel senso Sa che qualcuno Le ha risposte E si sente felice Tantissimo Questa cosa è bellissima Anche Quindi Non divulgarmi Più di tanto Senza divulgarmi Più di tanto Vi direi che C'è uno slobro Della madonna Qua E c'è un torterra Che è pronto a picchiarlo E questo Mi droppa La cosa buona Mega drain Ok Aia Razor leaf Perfetto Ma droppa Che merda Ok Dicevo L'iscritto Sibile di voi Quindi Se siete un youtuber Secondo me Dovete In qualche modo Cercare di rispondere A più messaggi possibili Poi questa è la vostra scelta Questo è il mio parere Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Mi dispiace Se non l'ho fatto tantissimo Però ho cercato sempre Di portare Un bel bel argomenti Che secondo me Sono molto importanti Per Non tanto crescere Su youtube Ma più per Convivere Con un youtuber Che è una cosa Abbastanza impegnativa E difficile Penso che nel prossimo episodio Andremo comunque a expare Perché voglio Arrivare a un buon punto Allora ho tratto Un po' Troppo comunque Andrò a riposare Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Fatemi anche Dei monologhi giganteschi Dei scritte Tipo dei Text wall Che sono bellissimi Sinceramente Che Indicano a me Che voi Avete visto tutto il video Quindi questa cosa Mi fa molto piacere E Ditemi cosa ne pensate Riguardo a questa faccenda E Per favore Non fate Nomi Di youtuber Perché Penso che Lo youtuber Interessato Sappia Se fa questa cosa Oppure no Quindi Non preoccupatevi Non fate i nomi Pensate Ditemi ciò che vedete E Secondo voi Come si comporta La maggior parte Dei youtuber Per me Ragazzi Direi che per questo Questo video è tutto Vi ringrazio per stati con me Vi ricordo comunque Prima di finire l'episodio Che Esiste una pagina facebook Qui sotto Dove In genere Pubblico Stronzate Però pubblico Anche delle cose Interessanti Che non dico su youtube Quindi se volete Potete seguirmi lì E Ho fatto anche un piccolo Progettino nuovo Che Spero possa interessarvi Per chi passa subito La pagina facebook E Cos'altro Se volete Mettete un bel like Se è piaciuto l'argomento Se ne avete altri Da consigliarmi Fatelo sapere Nel frattempo Noi uccidiamo questo Raichu Perché mi sta Antipatico Quindi Uccidiamo questo Raichu Poi andiamo via Earthquake Pam Ucciso Si Earthquake Idiota Earthquake 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 Perfetto ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao Ciao